guarda dove ti porto, tanto per cominciare, la strada che porta al mare e poi solamente mandata e ritorno, di fronte al Banco Popolare, guarda cosa c'è, forse l'hai riconosciuto, vediamo un po' chi c'è, se c'è, è aperto, è aperto, qua ci sono già i segni del comando, questo ne fa tutti quanti lei, e lei è qui, Giudelaine, come stas? Ciao, tutto bene, ci spieghi cosa fai qui? Un po' di tutto quasi, iniziamo dalla parte di là, vieni, 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 igiene personale, tutto sapone naturale, allora lei forse la riconoscerete, perché lo dico sempre, Giudelaine è una delle mie, anzi sicuramente è la mia miglior modella nella prima mia vita dominicana, Giudelaine che adesso è un po' meno modella, molto più imprenditrice. Sì, ho lasciato un po' quello del modellare, in spagnolo, perché faccio metà in metà, e adesso abbiamo preso l'imprendimento per diventare impresaria. Hai aperto questo negozio da un mesetto, più o meno? Sì, ho aperto da un mese, sto ancora lavorando, facendo un po' di tutto, sapone naturale, principalmente, delle cose anche per l'animale, guarda questa bellezza che ho per i cani. Questa l'hai fatta tu con domanine? Certo, anche questo, cara. Pensa che brava. E cos'è questo qua sapone? Sapone per il cane. Quello cosa? Quello da mangiare il cioccolato? Questo sembra di mangiare, tutti lo dicono, ma è un sapone per esfoliare la pelle, fatta con il cioccolato, con il caffè, roba tipico di qua, di Repubblica Dominicana, con il caffè della Repubblica Dominicana. Sono ingredienti che si trovano e si producono e nascono qui in Repubblica Dominicana. Esatto. Il resto poi tu la ce lì. Abbiamo più sapone di qua, guarda, facciamo anche di l'olio per la pelle, per il velo, per tutto quello che vuoi anche per fare il massaggio. E sono tutte cose anche questo lo fai tu? Sì, faccio tutto qui, tutto che c'è qui, anche il profumo, guardavi l'anio anche qui. E' tutto fatto. Da qui, facciamo questo per il labbra, per quando è secco. Questo è il profumo che l'abbiamo messo di nome Spina. Spina perché tuo marido? Sì. E' la moglie di Jonathan. Ricordo a chi fosse più distratto che sono stato il fotografo del loro matrimonio. Quanto è passato? Quasi due anni sono. Sì, due anni. No, un anno e mezzo perché abbiamo due anni insieme. A ottobre fate due anni a ottobre? Sì. E questi sono tutti prodotti che crei tu da zero. Sì. Studi le le formule. La materia prima che è il principale, che è l'olio, quello che si fa in cucina, quello che utilizziamo in cucina con quello che faccio il sapone, è la cosa più bella. Cioè cosa usi di base? Uso aceto extra virgine di olivo, a parte del cocco, che tante persone non mangiano il cocco, ma fa benissimo tanto alla pelle e anche alla salute. Traduco per i più distratti, usi olio extravergine di oliva, soprattutto. Sì. Che trovi da dove? Fatto dove? Dal supermercato. Ah, ecco, quello è quello alimentare proprio. Sì, certo. E dalla parte di qua, quando facciamo anche del sapone per pulizia, questo sono sapone per lavare i piatti. Vedete qui. Per i piatti, questo è uno per pulire come le formiche, tutto biodegradabile. Cioè per mangiare le formiche, quello. Sì. Questo per lavare l'abbiamo fatto colore del magazzino, anche che il nostro, la nostra bandiera. Abbiamo fatto anche il prodotto delle stesse colore per fare vedere. Questa sono piccole muestre che se li danno al cliente. E qui ho il super top che Jonathan è innamorato di questo prodotto. È pazzo perché pulisce tutto. Lui lo mette, fa la meccanica, che la cucina, tutto. Anche le scarpe, quando sono sudici, ti spruzzo un pochino e diventano bianchi. Da questa parte ancora abbiamo il sapone. Ah, guarda queste bellezze che ancora non le ho tagliate. Sono quello che ho fatto l'ultimo, l'ultimo che ho fatto di del cioccolato, caffè. Questo è il sapone? Sì, il sapone. Che sono usato nella doccia, per dire. Certo. Non si possano mangiare, non si possano mangiare, anche se sembrano. Fammi sentire il profumo. Sì. Completamente natural. Quello che ha lasciato il caffè. È difficile, è difficile da resistere. Un morsetto gli eroderei. No, perché è il suo. Grazie aiuterai. Cosa c'hai ancora prima di... Ah, è qui abbiamo la protesia per il cliente. Ti va un caffè? Ah, certo. Espresso italiano. Escusa, eh? Ah, ecco. NaturalSafe qui a las terrenas.